Radio Radicale, siamo col senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia al termine dell'informativa del Presidente del Consiglio Conte sull'ultimo DPCM. Allora, oggi dall'intervento di Marcucci mi sembra sia spuntata anche la richiesta di una verifica che dovrebbe promuovere Conte. Allora, che cosa sta succedendo? Mi pare una semicrisi di governo, perché questo è un paese semiserio, anche in una tragedia vera. Io ho dei parametri classici, io abborro Conte perché io ritengo che non si prende uno per caso e gli si fa fare il Presidente del Consiglio. Io vorrei fare il dentista o il pianista. Nessuno mi affiderebbe un concerto e nessuno metterebbe i suoi denti nelle mie mani. Quindi la situazione è seria, perché un paese in un momento così drammatico, non è solo il problema dell'azzolina, che sembrano l'imitazione dell'imitazione della Cunzanti. Il problema è che nel frattempo oggi avremo gli altri contagi, i decessi, le questioni delle terapie intensive, però poi De Luca farà un appello contro Halloween. Emiliano dirà che bloccheremo l'Albania. Quindi la situazione è seria. Si era parlato in questi giorni di un governo di unità nazionale, di un governissimo, lei pensa che sia la strada sbagliata? Gli interventi sono stati chiari, sia degli altri esponenti del centrodestra, sia della senatrice Bernini, nostro capogruppo. Non vogliamo posti, non vogliamo poltroni. Io poi le dico personalmente, io non starei mai. Non in un governo, nemmeno in ascensore, con i grillini. Quindi la situazione è seria, quindi voglio dire sarebbe improponibile, perché se ne immagini adesso parlava uno che si chiama Cioffi, non so chi sia. Che ha fatto anche un errore nel suo intervento. Perché lei ha avuto la pazienza di sentirlo, io sono andato a fare altre cose. Che ha fatto Cioffi? Ha detto abbiamo sentito un prolasso di parole, invece di dire profluvio di parole. Prolasso, perché a me mi ha fatto venire il prolasso adesso il suo racconto. Quindi la situazione è seria, c'è che è un tracollo di membra, ma lui non lo sa. Ecco appunto, io con quello non prenderei manco, come si dice una volta che non si deve prendere il caffè, io con questo non ci prenderei manco la censura. Quindi la situazione è seria, ci vorrebbero delle elezioni, ci vorrebbe il centrodestra al governo. Oggi il meccanismo, e conviene a questi sciagurati che stanno al governo, e non è funzionante perché avendo tagliato i seggi con il referendum, che non serviva a moralizzare, a spendere meno, serve a blindare la situazione. Taglio i seggi, se poi non adegua la legge elettorale, non si può votare. Quando faccio l'adeguamento della legge elettorale, ma come? C'è un'emergenza virus, parliamo della legge elettorale, no? Quindi io comunque con questi manco l'ascensore. Per cui io credo che dobbiamo preoccuparci seriamente.